Ciao, sono Katia, sono la responsabile del punto vendita Cafitaly Shop di Reggio Emilia di via Gramsci numero 10. Ero una brava maratonetta, mi piaceva moltissimo fare le mini maratone, faccio un po' di roba manuale, mi diletto in cose coi ferri, con l'uncinetto che poi li vado a vendere ai mercatini nel mio tempo libero. Io dal 2009 che sono nel settore caffè e sono proprio fatto la mia formazione con Cafitaly. Il mio caffè preferito è un'arabica 100%, quindi io sto su un Caraibi piuttosto che non su un Messico, quindi queste miscele monorigini chiamiamole, quindi un po' pregiate, un po' speziate. Cafitaly è un'azienda prettamente italiana, il caffè che Cafitaly utilizza per capsule selezionato, le nostre capsule che hanno il doppio filtro. Cafitaly punta molto sulla qualità, cioè noi puntiamo veramente tanto sulla qualità. Le nostre capsule portano gli 8 grammi di caffè, il classico espresso italiano è fatto di 8 grammi di caffè. Se io ti faccio un caffè di Cafitaly tu lo noti già per la cremosità, per la consistenza del caffè. Grazie. Grazie.